Prima amichevole del ritiro in Algarve per la Roma, l'estadio Municipal di Albufeira. Sta per iniziare Roma Sporting Braga. Sam Awar sul pallone, eccolo il cross in mezzo. Mancini, traversa ancora Mancini, non riesce a ribadire. Poi Sciarawi con la schiena, Cristante l'alza verso Belotti, posizione regolare di testa Belotti. Ultimo lo stacco di Gianluca Mancini su Niacate. Eccolo il tiro Rui, in qualche modo. E poi l'invio di Gianluca Mancini. Riconquista Mancini, palla profonda di Mancini verso il Sciarawi. Gravente Giubani al limite, arriva Zaleschi servito al limite. Entra in area Zaleschi, ancora poi ha difinto il sinistro per Stefan. E il Sciarawi, Roma in vantaggio. Meglio c'era il Sciarawi insieme a lui anche Awar. Ci è arrivato prima Stefan. Poi Matic la riconquista, accorciando bene. Palla in avanti per Pagano ancora il tiro. Del numero 60 viene deviato, ci sarà calcio d'angolo. Passa in mezzo il pallone col potestà di Banzal. Musrati la mette Giuborta. Il tiro, utente ma alto. Uno contro due, Spinazzola bene dentro ancora. Per Celic, appoggio indietro verso Pellegrini che finta il tiro. Se la mette male allora deve rifermarsi per Di Bala di prima. Fuori di niente. Mendesce a lato corto, Dali può crossare. Eccolo il cross in mezzo. Palla spizzata, il tiro e il gol. Da parte dello Sport in Braga che arriva al pareggio con Bruma. Non c'è più tempo. Arriva il triplice fischio. Finisce qui il match. Roma 1, Sport in Braga 1.